Giulia Cavaglia arriva una testimonianza sul tradimento di Manuel La partenza ad Ibiza e la fine della relazione, coincidenza o destino?. Giulia Cavaglia ha più volte promesso ai suoi fan che non appena saprà qualcosa di nuovo, racconterà tutta la verità. Fino ad ora non abbiamo notizia al riguardo, nessuno ha parlato chiaramente, nessuno ha confermato o smentito il tradimento di Manuel Galiano. La loro storia è ufficialmente finita, questo sì che è stato confermato sia dall'uno che dall'altro direttamente attraverso i profili social. Tutto è iniziato prima che Manuel partisse ad Ibiza, già da allora si parlava di una crisi tra i due, quindi tradimento o no i problemi c'erano già da prima. La storia si è avviata verso il capolinea solamente al ritorno di Manuel in Italia con il video del presunto tradimento. Poi sono passati dei giorni durante i quali tra i due è scoppiata una vera e propria guerra di frecciatine, accuse, parole pesanti. Quando Giulia ha comunicato di aver concluso la storia con Manuel proprio lui ha scritto di voler rimanere in silenzio per qualche tempo e di non voler rilasciare dichiarazioni. Il ragazzo però non è stato è abbastanza chiaro. Il popolo dei social quindi si è lasciato andare alle ipotesi ed ovviamente ad una serie di critiche immancabili. . Ecco quindi critiche e dubbi di qualsiasi genere sia sull'uno che sull'altro anche se Giulia Cavaglia sembrerebbe non centrare nulla. . Giulia Cavaglia illusa per la seconda volta, ecco le parole di Irene Capuano. . La ragazza ha iniziato e portato a termine il suo percorso nel migliore dei modi con tutta la buona volontà e la sincerità possibile. . Credeva davvero di trovare l'amore della sua vita nel programma ma a quanto pare nemmeno questa seconda esperienza le ha regalato il principe azzurro. . Per lei ha già la seconda delusione e probabilmente da adesso in poi si chiuderà in se stessa perché fidarsi nuovamente di un ragazzo sarà certamente difficile. . Intanto sono arrivate delle nuove dichiarazioni, qualcuno ha detto di sapere qualcosa di più e a parlare è stata Irene Capuano che ha risposto ad alcune domande dei fan e ha voluto dire la sua. . . Non ha voluto lasciarsi andare e quindi aggiungere altre informazioni ma ha sicuramente fatto intendere di sapere qualcosa che a breve sapremo anche noi. . Potrebbe essere stato messo in circolo qualche video chiaro che toglie tutti i dubbi sul tradimento di Manuel nei confronti di Giulia Cavaglia. . . In qualche modo comunque scopriremo tante cose nuove ed interessanti. . E tempo di gossip. . . . . . . . . Grazie a tutti